Nicolás González sarà un nuovo giocatore della Fiorentina a partire dal prossimo anno intanto nuovo stile di capelli, cambiato un po' sto genere, mi sono fatto la coda eccetera nuovo stile di capelli, comunque buon acquisto, 27 milioni allo Stoccarda andranno per l'attaccante argentino molto giovane, talento secondo me che potrà fare bene come secondo di Braovic ma anche come esterno sinistro anche calcolando il ritorno di Sottil la situazione si può fare molto interessante con un bel attacco a 3 Sottil si potrebbe mettere sulla destra Nicolás González e Braovic prima punta quindi veramente sull'attacco io non c'ho niente da dire diciamo caratteristiche abbastanza buone per Nicolás González che gioca nel tridente ad oggi dell'Argentina con addirittura di Marian Panchina, Nicolás González, Cristiano Munes Liga ha fatto mi sembra 6 gol, una cosa del genere però comunque in una squadra come lo Stoccarda non è nemmeno male come risultato ora bisogna vedere un po' come darà sul campo quello che potrà fare dato che ora ci saranno le ore decisive per l'arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina viola quindi veramente saranno ore decisive soprattutto sia sul futuro dell'allenatore dello Spezia che sulla Rosa della Fiorentina del prossimo anno calciomercato che è iniziato con questo buon acquisto secondo me Neolás González secondo me potrà fare bene, certo è che l'abbiamo pagato forse un po' troppo 27 milioni, 23 più 4 di bonus mi sembra speriamo bene soprattutto anche perché è giovane quindi diamoli tempo di adattarsi va bene tutto però speriamo anche che con l'arrivo di Italiano perché ormai sembra lui il prescelto da commisso e dalla dirigenza che riesca anche a inserirlo in una buona formazione poi come altre voci di calciomercato ne troviamo molte troviamo altre voci di mercato su giocatori dello Spezia insomma molte informazioni sul giocatore della Fiorentina che dopo l'addio di Gattuso si è veramente rivoluzionato anche a causa appunto dell'addio anticipato dell'ex allenatore del Napoli quindi veramente bisogna trovare in qualche modo veramente una buona rosa per in qualche modo non vi dico perché se viene Italiano purtroppo l'obiettivo sarà la salvezza comunque metà classifica però in qualche modo di provare a puntare la parte sinistra non lo so Italiano ha allenato soltanto lo Spezia e quello è il problema ragazzi a me Italiano piace sinceramente però ha allenato una piazza come la Spezia la Spezia ricordiamocelo non è una squadra lo Spezia non è una squadra così oh mio Dio però è una buona squadretta cioè nel senso ha allenato una piazza troppo piccola secondo me andare a Firenze si potrebbe anche rovinare ma mi dispiacerebbe anche per lui perché comunque secondo me è un buon allenatore italiano però non è forse la Firentina ecco avrei preso più non lo so sinceramente un Juric, un De Serbi solo che erano anche loro già occupati contratto col Torino per Juric contratto con lo Shakhtar per De Serbi ora bisogna vedere un po' Nicola Sgonzales comunque sono fiducioso, sono contento voto questo colpo di mercato io direi un 8, 8 e mezzo perché comunque da una parte sappiamo che è un bel talento dall'altra non sappiamo se si potrà adattare al calcio italiano sperando di sì ovviamente però comunque sono fiducioso speriamo bene anche perché è giovane mi sembra che ha 23, 24 anni comunque è veramente giovanissimo insomma bisogna veramente anche levare tutti i giocatori vecchi Pulgar, Pezzella tutta sta gente qua che ormai va verso i 30, 32 insomma gente troppo vecchia per la Firentina come Cagliecon e bisogna ancora venderlo ragazzi Cagliecon bisogna ancora venderlo quindi speriamo bene con questo acquisto e ora spero che facciano altri acquisti perché non basta solo fare acquisti ovviamente devono fare anche le cessioni perché comunque bisogna vendere Pezzella bisogna vendere, non lo so, Milenkovic forse però Milenkovic non penso che parta via penso che un altro anno dovrebbe rimanere bisogna vendere Pulgar bisogna vendere Bonaventura forse, non lo so bisogna vendere Cagliecon bisogna vendere Biraghi insomma ce ne sono veramente tanti però a quanto pare intanto una certezza è arrivata il tridente del prossimo anno al momento sarebbe Sottil, Gonzales, Blaovic anche calcolando che ora Ribéry potrebbe rinnovare il contratto per almeno un altro anno quindi l'attacco potrebbe essere anche Gonzales, Blaovic e Ribéry oppure Sottil, Blaovic e Ribéry che sinceramente ci può anche stare perché a regola io penso italiano giocherà con lo Spezia faceva giocare prima puntanzolà agli esterni quindi saremo su un 4-3-1-2 o comunque un 4-3-3 che potrebbe anche non lo so comunque speriamo bene con la firma l'italiano che a breve dovrebbe arrivare quindi speriamo bene nulla dunque noi ci vediamo stasera con le post partita degli europei ciao a tutti